Ciao a tutti ragazzi, appena finita Tottenham Ajax, due parole su questa partita. In realtà questo video non era progettato, non avevo assolutamente intenzione di fare il post partita, ma ci sono alcuni spunti che voglio condividere assieme a voi e voglio discuterne sotto nei commenti. L'Ajax l'altro giorno io ho fatto un discorso sul nostro centrocampo. Non dominiamo le partite perché non abbiamo un centrocampo che è molto tecnico. E per molto tecnico intendo controllo della palla, gestione del pallone e fraseggio. Queste cose noi a centrocampo non le abbiamo. Nel nostro centrocampo centrale l'unico palleggiatore è Pjanic. Se tu vuoi dominare il gioco devi avere il possesso della palla, però se non hai giocatori che sono in grado di fare quella tipologia di gioco, quindi palleggiare bene a centrocampo, fai fatica. Noi attacchiamo molto per gli esterni e il centrocampo è carente appunto a livello di tecnica. Nell'Ajax questo discorso ragazzi non esiste. Sono molto bravi tecnicamente tutti quanti. De Jong, Van de Beek, Zitek, sono tutti bravi tecnicamente. Riescono a gestire il pallone, hanno una velocità di esecuzione che è pazzesca, hanno una velocità di pensiero nella giocata che è sbalorditiva perché loro in un lasso temporale molto piccolo riescono a fare la scelta giusta e la riescono a fare anche correttamente perché i passaggi che fanno non sono casuali. E questo ragazzi è sintomo del fatto che l'Ajax ha puntato tanto a un progetto sul lungo periodo per formare giocatori bravi tecnicamente. Se poi la bravura tecnica unisce anche un allenatore che sappia il suo a livello di tattica, escono questi capolavori. L'Ajax non è una cosa casuale, non è una squadra, una meteora che è arrivata da noi e ci ha distrutto così casualmente perché noi abbiamo un allenatore indecente. hanno, secondo me, un valore tecnico superiore al nostro sulla metà campo che è il cuore pulsante di ogni squadra. Loro ci hanno dominato perché riuscivano a tenere il pallone molto più di noi e ci hanno ridicolizzato da quel punto di vista. Quindi complimenti. E oggi è un'altra partita differente rispetto alla Juventus perché giocavano su spazi molto più larghi perché il Tottenham tra le linee lascia degli spazi molto ampi. Tra centrocampi e difesa c'erano 10-15 metri e nonostante ciò, quindi, questi spazi essendo così ampi ti obbligano a correre tantissimo perché devi fare, ovviamente, tanta strada per arrivare in porta a vendere parti alle squadre lunghe. È complicato arrivare a fare la scelta giusta perdi un po' di lucidità perché ti stanchi perché devi fare 70 metri di campo. Questo problema io oggi nell'Ajax non l'ho riscontrato. Sono una squadra matura anche da quel punto di vista. Ora, se arrivano in finale, secondo me perdono perché o trovano un Barcellona o un Liverpool che sono molto molto cattivi in attacco, l'Ajax è molto fumoso in attacco. Hanno un centrocampo di tutto rispetto che si regge tutto su De Jong, che è il loro centrocampista più intelligente dal punto di vista tattico. Dietro De Ligt e Blind sono una coppia di centrali che si completa a meraviglia. De Ligt, 21 anni, personalità da vendere, valgono tutti i soldi che le squadre grandi stanno decidendo di spendere perché se compri questi due giocatori ti metti a posto per un sacco di anni qualsiasi reparto. Centrocampo per De Jong e difesa ovviamente De Ligt. Ragazzi, complimenti a Tenac e alla sua banda di giovani ragazzi che sono veramente interessanti. Quando parliamo della Juventus e della sconfitta della Juventus, facciamo un esame di coscienza sul nostro valore tecnico della meta a campo e capiremmo forse che loro, da quell'aspetto, sono molto più bravi di noi e il loro allenatore è stato bravo a esaltare proprio quella dotte. Detto questo, vedremo cosa succederà comunque al ritorno perché il calcio è strano, perché ci sono un sacco di variabili, episodi che importanti in Champions League e comunque il verdetto non è ancora stato scritto. Questa è la mia opinione. Voi ditemi la vostra sotto nei commenti. Vi auguro una buona serata. Ci vediamo domani col video tattico di Pepe Guardiola su come potrà giocoare con la Juventus, che il mercato potrà fare, quale sarà il modulo. Ho fatto questo video insieme ad Emilio, quindi sarà sicuramente una cosa interessante per voi, visto che ovviamente l'argomento che prende adesso un sacco di spazio è la successione della panchina di Allegri. Sempre se ci sarà una successione, un rinnovo. Ciao a tutti e buonanotte, sempre e fino alla fine. Forza Juve! Io sto qui! Ciao a tutti e buonanotte!